Ueeh, non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Can you hear that screaming? I grandi magazzini, adesso diventati Corso Commercio e Neopinnacoli, adesso diventata Tilted Town, anche qua ragazzi in realtà sappiamo già che cosa succederà. Se andiamo a vedere ragazzi sapremo che dall'alto si può vedere come non c'è praticamente più nulla all'altezza del campo da calcio A5 ragazzi. Non è ancora chiaro perché abbiano deciso di togliere tutto ma oltre a non vedere più nulla ragazzi ci sarà anche delle immagini, ci sono anche delle immagini incredibili. Come vedete abbiamo il vuoto totale e se andiamo a guardare un po' meglio ragazzi, niente, solamente un po' di pietra, solamente le porte del campo da calcio abbandonate. In realtà rimarrà semplicemente una vending machine, quindi probabilmente domani o alla peggio dopo domani con l'aggiornamento della patch 10.10 vedremo in game le modifiche. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, un bel like, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live. Ciao! Ciao!